se volete il soluzione explorer di una forma ad maggiorniamo Windows application clicchiamo Ad Windows Form Windows Form e la forma si basa il nome Form set maggiorniamo Nome Main Underscore Mainform Ad Form Mainform Text Mainform Ma Da Name Mainform Nome Nome Ma 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 Oh ma da questa metà data great view data great view data great view da inizia a data set ma vediamo vediamo Voi Sorge grazie a tutti data, database, next data set va avron computer sale name ma uschmo da sti new connection mi giri va server name and hop me cani server windows authentication va SQL server authentication, maybe SQL authentication is a va password shop set me cani baris va select database, as inja database va select me cani. database ma ba nama stdb would select is me cani, va bad baris me ke ok, bad next me ke, ha, as inja me ke, exclude sensitive data from the connection string i will set this information in my application code, ya include sensitive data and connection . . . . . . . ho inizia bachata rica smata project select me stuff for much more genera smata project windows application formiac name informant hop e poi start ora 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 per la 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 l la 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 ma la 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 il 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 mi ha no questo nemmeno negli il è ora che 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 c'è che stasera via 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 il suo la il suo il 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 che all record textuali all record report e e e e e all record Il 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 Bittien o DITDetails DIT DIT Report Bittien DIT Report Bittien DIT Report Bittien DIT 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 Report Bittien DIT DIT Report Bittien DIT Report Report In Now New Report Form 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 il borsa e sul mio nome di tecchiet il mio nome di tecchiet il mio nome di borsa il nome di borsa il città il borsa add il il ricord il ricord il ricord il nome di borsa che cosa non è for me sono e un'eccato il mio ricord for for new ricord or ec ricord for for . 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 il mio caso di oggi è stato molto bene e poi la legge ora la legge ora ora la legge ora 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 ma mi sco st da il calico st st il st il non il 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 nostro corso ora eccecuiti poi dopo aver fatto in questo momento DIT VIEW DL VIEW e DIT 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 poi DL VIEW e 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 DL VIEW DL VIEW DL DL VIEW DL VIEW DL VIEW DL VIEW